Qualcosa in più abbiamo fatto, però ci sono stati tratti della partita in cui, soprattutto a metà del primo tempo, dove il Sassuolo ci ha, senza creare occasioni, ma ci ha tenuto un po' lì, nella nostra metà campo, però la squadra ha difeso molto bene e ha finito increscendo. Dovamo credere un po' di più alla possibilità di vincere la partita, però affrontavamo anche una squadra molto forte, con giocatori importanti e dunque sono soddisfatto molto della prestazione, soprattutto a livello di mentalità, perché la squadra è scesa subito nella partita nella maniera giusta. Noi siamo arrivati diverse volte nei pressi del limite dell'aria, però dopo, lì anche per bravura dei difensori del Sassuolo, ci è mancato qualcosa. Di solito noi abbiamo un dominio più vistoso a livello fisico nell'impatto tra i nostri attaccanti e i difensori avversari, invece oggi questo si è visto un po' meno, però c'è anche da dire che ci sono gli avversari che erano di buonissimo livello oggi. È stata una partita molto equilibrata secondo me, ci sono stati dei momenti della gara dove c'è stato da soffrire, perché il Sassuolo è una squadra molto valida, con giocatori forti, quindi siamo stati molto bravi nei momenti difficili a soffrire tutti insieme, non ricordo grandissime parate di Stefano, Gori, quindi abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, peccato per le situazioni che eravamo riusciti a creare, che potevamo magari finalizzarle un po' meglio, però non abbiamo trovato oggi l'episodio che ci ha fatto vincere la gara, però stiamo dando continuità alle nostre prestazioni, ai nostri risultati, quindi va bene, siamo contenti così oggi. Ripeto, il Sassuolo è una squadra molto forte, sono molto bravi a palleggiare, quindi era normale in dei momenti della gara di dargli un po' di campo, ci siamo un po' abbassati, non sempre potevamo andare a prenderli alti, però penso che abbiamo gestito bene le varie fasi di pressing, sia alto che un po' più basso difendendoci nella nostra metà campo. Ripeto, ci sono state magari delle situazioni dove dovevamo essere più bravi nel cercare di essere un po' più lucidi, o di fare la scelta giusta nell'ultimo passaggio, cosa che ovviamente possiamo e dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare in settimana per cercare di realizzare più gol possibili quando ci capita, perché quando giochiamo, specialmente con squadre così forti, non è facile creare tanto, quindi quelle poche situazioni che riusciamo a creare dobbiamo essere lucidi e bravi nel finalizzare nel miglior modo possibile.